Punta il diretto avversario sulla sinistra, poi cambia gioco con il destro, mette questa palla per Maier che colpisce in porta! La palla entra, grossa indecisione della difesa di casa, al minuto 20, Maier trova il vantaggio per gli ospiti! Ancora un pallone in avanti, cercare della sega, anticipato netto dal difensore, ma la palla rimane lì, ancora della sega che riceve in aria, si gira con il pallonetto! Traversa, poi la palla messa in corner dal difensore, grande occasione per gli ospiti! Il Kaltrer vuole chiudere la gara, traversone dalla destra, messo in mezzo per Gunsch, che stacca di testa più in alto di tutti e chiude probabilmente la partita!